Stai bene? Sì, sto bene, solo che l'orecchio mi... Penso che dovrei rinunciare a Budapest e andare direttamente a Parigi. Io sto tornando a Parigi. Posso darmi un passaggio? Davvero molto gentile. Per te va bene? Allora, diciamo che non sappiamo dove stiamo andando e neppure chi siamo. Oh mio Dio. Guidare è il solo modo per conoscere un paese. Dove sei? Sto andando a Parigi con uno dei soci di tuo padre. Voilà. E scargò? Allora, com'è Parigi? Non ci sono ancora arrivata. Jacques ha voluto fermarsi per la notte. Lui cosa? Santé. Non dimenticarlo, è un francese. È felice. Abbiamo un buon matrimonio. È felice. C'è un bellissimo museo. Dovresti andarci? No, no, dobbiamo andare a Parigi. Pensavo che a quest'ora fossimo già a Parigi. Parigi può attendere. Guarda, Veselè! Facciamoci un salto. Ottima idea. D'accordo, Jacques. Adesso dritto a Parigi, ok? Allora,anzi è un salto. Consolida. Ciao, av spiritually.